Ursula von der Leyen confermata alla guida della Commissione Europea, economia e difesa le priorità, un commissario per il Mediterraneo, la novità. BCE, il board, lascia i tassi invariati a 4,25%, previsti in Novità a settembre e dicembre, l'incertezza politica dei Stati Uniti e Francia pesa sul rinvio. Gruppo Grimaldi, l'AD Emanuele Grimaldi in esclusiva ad Alice Channel, l'instabilitaggio politica non deve essere un alibi per non guardare avanti. Presto ordineremo 9 nuovi Pax Ferry. Mercato auto a giugno in Europa e matricolazione in crescita del 3,6%, meno 0,3 per le elettriche, lo share si attesta al 13,9%. Napoli stamane terremoto di magnitudo 3,6 ad Agnano, l'ingegnere soccodato, vulcanologo, nominato commissario straordinario dell'area Fregrea, dove il suolo sta salendo di 2 cm al Misse.